Non so se abbiamo un video per Giuliano, la nostra fischiatrice che ogni sera ci riserva mille sorprese, Isabella Adriani, questa sera ha scelto di applicare la sua arte alla canzone di Giuliano Palma. Sentiamo Isabella. Stasera omaggio a Giuliano Palma. Stasera omaggio a Giuliano Palma. Sono rimasto stupefatto, ma è quest'artista un ospite ricorrente? Tutte le sere omaggia uno dei cantanti dell'Ariston fischiettando il suo motivetto. Bravissimo, ha dato fischiare bene è difficile, io sono uno di quelli, non so se ce ne sono altri presenti, che quando provano a fischiare viene fuori... E che se vanno a fischiare con le dita fanno... Quindi non so se sono il solo però... E quindi grande invidia. Grande invidia. Grande invidia.